Lombardia, la patria di tutto, di Gianni Biondillo. Avevo un problema da bambino, anzi, a essere precisi, due. Il primo era Milano, la città dove ero nato. Figlio del sottoproletariato meridionale, immigrato al nord, vivevo il mio quartiere come fosse il centro del mondo. Abitavo in una periferia popolare. Già andare al castello Sforzesco o in Duomo era come fare una gita fuori porta. La Lombardia non esisteva, insomma. La Lombardia, per me bambino, era un'immensa Milano operaia. E poi il mare, il secondo problema. Una cosa la sapevo per certa, in Lombardia il mare non c'era. Nella mia geografia empirica il mare era davvero lontano, a ore e ore di distanza. Non certo quello della Liguria, il mare naturale dei Lombardi. Quando arrivava l'estate e la famiglia transumava al sud a trovare i parenti lontani e si scendeva in treno nel cuore dello stivale, il mare per me appariva solo dopo Roma, quasi ai confini della Campania, quando il treno finalmente me lo rivelava d'improvviso, come un miracolo. Dunque, da bambino esisteva un'Italia fatta di un nord urbano, grigio invernale, e di un sud assolato, festivo e a creste. Certo, capitavano variazioni inattese. Una domenica a Como a mangiare un gelato, un pomeriggio sul Ticino con i cugini per un bagno. Ma erano così rare che non confliggevano con la mia idea binaria del paese. La Lombardia, per farla breve, non la conoscevo. L'ho conquistata negli anni, da adolescente. Ricordo ancora una gita domenicale a Bergamo con un amico studente del liceo artistico. La salita dai borghi della città bassa alle mura della città alta fu come una rivelazione. Ero a un'ora di treno da casa, eppure mi sembrava di stare fuori dal mondo. La Lombardia era molto di più di ciò che mi ero immaginato. È solo nel 2017 la proclamazione delle mura bergamasche a patrimonio dell'umanità. Io lo sapevo già da ragazzo, che poi la Lombardia, nella lista dell'UNESCO, c'è entrata da subito. Il primo sito italiano, nel 1978, fu il Parco nazionale delle incisioni rupestri della Val Camonica. Oggi, come sappiamo, l'Italia è il paese con più siti riconosciuti come patrimonio dell'umanità. Ma forse non sappiamo che nel nostro paese è proprio la Lombardia ad averne il maggior numero. Non c'è periodo storico o sovrastorico che non abbia una testimonianza significativa in questo territorio. Dal patrimonio geologico e fossilifero di Monte San Giorgio, alle palafitte preistoriche dell'Arco Alpino, dall'Impero Romano, Milano ne fu addirittura capitale, ai Longobardi, che hanno dato il nome a questa regione. Dal rinascimento leonardesco a quello mantovano, dall'artigianato liutario cremonese al villaggio operaio di Crespidad. È la complessità orografica di questo territorio, la sua posizione di transito da nord a sud del continente, la sua incredibile varietà paesaggistica, che rendono la Lombardia una regione unica. Certo mi rendo conto che dire Lombardia è una semplificazione. Per influenze storico-politiche, linguistiche, di costume, dovrei tener conto anche del Verbano, del Novarese, che oggi sono in Piemonte, di buona parte del canton Ticino, in Svizzera, di Piacenza, in Emilia. Secoli di dominazione Veneta non sono passati in vano a Bergamo, a Brescia, a Crema, Lombardissime, ma a Modoloro. E Mantova cos'è? Abituata a essere uno stato cuscinetto, fra potenze medievali, non la si può semplicemente considerare come tipicamente Lombarda, ma di certo neppure come Veneta o Emiliana. L'è sì, da qualche parte, che la biodiversità presente nel sistema dei laghi Lombardi era maggiore di quella presente nell'intera Scandinavia. Non so se sia vero o sia un'esagerazione. Di certo la straordinaria ricchezza idrica ha determinato la varietà vegetale e animale e la crescita economica di questa regione e la sua bellezza. A ben pensarci, tutta la pianura era, prima dell'uomo, un'immensa foresta di querce. Se ne ha ancora il sentore camminando lungo il parco del Ticino, dove resiste una vegetazione ripariale antica, preumana. Oppure bisogna andare dove l'aria si rarefà, in cima alle Alpi retiche o bergamasche, sul cucuzzolo dell'Adamello, ad esempio, per riuscire a immaginare la Lombardia prima di noi. Altrimenti tutto ciò che vediamo è il risultato di un'opera incessante, titanica, dell'uomo sul territorio. L'uomo ha lavorato la pietra o estratto il ferro dalle montagne, ha trasportato i materiali lungo i laghi o i fiumi, ha bonificato gli acquitrini, le paludi, ha centurizzato la pianura, l'ha coltivata, ha dato una forma ai suoi borghi, alle sue città. Ha segnato con castelli o monasteri i punti notevoli del paesaggio, costruito strade, scavato canali. Se c'è, insomma, un modo per intendere la Lombardia, un minimo comune multiplo nella sua straordinaria complessità sta nell'essere una regione laboriosa, in ogni senso. E per me, da studente di architettura, era un continuo andare alla ricerca di questo lavoro incessante. Che fosse in treno, in battello, in pullman, mai avuto la patente, la giravo affamato di tecnica, affamato di bellezza. Trovavo la grandiosità bravantesca nel santuario della Madonna di Tirano, in Valtellina. E già che c'ero, ammiravo il trenino del Bernina, patrimonio unesco, che da lì partiva per la Svizzera, o bevevo i vini prodotti dalle vigne che adornavano come un pizzo il versante esposto al meridione della valle. Mi perdevo nei ruderi della città fantasma di Castelseprio, patrimonio unesco, o nel rinascimento toscaneggiante di Castiglione e Olona. Camminavo, devoto, di stazione in stazione, lungo i sacri monti di Ossuccio o di Varese. Patrimonio unesco, sa va a san dir. Mi ponevo domande al limite del demenziale. Qual è la piazza più bella di Lombardia? La rustica piazza della Vittoria di Lodi, con la facciata in cotto lombardissimo del Duomo e il suo bel coronamento di portici tutto attorno? O forse la monumentale piazza del Duomo di Cremona, con il torrazzo svettante, il battistero enorme, la facciata della cattedrale tutta in marmo di Carrara e il rosso di Verona e il mercato degli ambulanti ogni settimana, così da forse mille anni? Era più bello il rinascimento veneto di piazza della loggia a Brescia o quello sforzesco della piazza di Vigevano, tutta affrescata come un salone che ha come soffitto il cielo stesso? Affamato, ho camminato in lungo e in largo, spesso in luoghi impervi, devastati dalla modernità anomica che ha annullato il paesaggio a meno della Brianza, trovando poi d'incanto perle del passato, come la basilica di San Galliano a Cantù. Giravo e mi chiedevo, e qual è il centro storico più bello? Forse quello dentro le mura comasche, logico, geometrico, patria di quei maestri comacini che hanno costruito il Medioevo italiano e di quegli architetti razionalisti che hanno portato l'Italia in Europa nel Novecento? Oppure il centro di Pavia, romano nella sua disposizione, medievale nei suoi gioielli, da San Michele al San Pietro in Celdoro dove è sepolto Sant'Agostino? E come non pensare a quello di Mantova che sembra emergere d'incanto dai laghi artificiali? Alta opera di ingegneria idraulica che lo cingono. Visitando questi luoghi si comprendono le parole di Goethe quando diceva che in Italia l'architettura è una seconda natura, indirizzata a fini civili. Non aveva bisogno di scendere in Toscana per rendersene conto. D'altronde se l'Italia era per lui il paese dove fioriscono i limoni c'è da ricordare che lui i limoni li vedeva già sul lago di Garda. Lo stesso lago che è dato il particolare microclima può permettersi oltre ai limoni anche palme e ulivi. Manca il mare, è vero, ma in quanto al resto la sembra voler essere un riassunto dell'intera Italia. Vette e passi alpini, laghi, colline, la pianura, il fiume più lungo della nazione. Piccola patria che ha sempre voluto essere parte di una patria più grande. Penso ai milanesi moti risorgimentali del 1848, ai mantovani martiri di Belfiore, ai pavesi fratelli Cairoli, alla spedizione dei mille per la maggior parte bergamaschi, ai numerosi volontari che partirono durante la prima guerra mondiale per liberare Trento e Trieste, ai partigiani che difesero l'orgoglio nazionale a Milano, al sesto San Giovanni, in Valsassina, lungo il Po. Tutti figli nati sotto lo stesso cielo di Lombardia che, a detta di Manzoni, è così bello quando è bello, così splendido, così in pace. Manzoni, appunto, che in casa parlava il milanese e nel frattempo inventava, con i promessi sposi, l'italiano moderno. Una regione così operosa è stata anche fra le prime a sviluppare una sensibilità ambientale. Fin dall'istituzione del Parco Nazionale dello Stelvio, nel 1935, uno dei più vecchi d'Italia, passando per il Parco Lombardo della Valle del Ticino, il primo parco fluviale d'Europa, fino a tutti i parchi, le riserve, le aree naturali protette. Dallo storico parco della Villa Reale di Monza a quelle dell'Alto Garda Bresciano, dal Parco Agricolo Sud Milano al Parco del Mincio, dal Parco delle Orobie Bergamasche, fino ai parchi dell'Adda. Insomma, quasi un terzo del territorio lombardo è sotto tutela. Perché ci si è resi conto che la crescita non può essere infinita, dato che il territorio è limitato per definizione? Occorrono creatività, innovazione, lungimiranza. Questo paesaggio, ricevuto in eredità, bisogna restituirlo alle nuove generazioni senza troppe ferite. Perché questo paesaggio, fatto anche di fabbriche dismesse, smisurati centri commerciali, cavalcavia mai terminati, ci somiglia. Carlo Cattaneo lo scrisse ben oltre di un secolo fa. Questa terra, per nove decimi, non è opera della natura, è opera delle nostre mani. È una patria artificiale. Mani capaci di saccare la bresaola in Valtellina, il salame a Cremona, a Varzi e quello d'oca a Mortara, di produrre formaggi come il grana padano o il taleggio. Quando mia figlia da bambina scoprì l'esistenza di una valta leggio, sgrannò gli occhi. Credo la immaginasse fatta di crinali di formaggio cremoso, di spremere dalle olive dei laghi lombardi un olio extravergine, di coltivare pere e meloni nel mantovano, mele in valtellina, di raccogliere asparagi bianchi a cantello, di imbottigliare sfumanti in Franciacorta o bonarda rosso rubino nell'oltrepò pavese. Insomma, di fame non è mai morto nessuno in questa terra generosa, con un suolo, quello della pianura padana, che è, a detta di molti scienziati, forse il più fertile del pianeta. Nella mia vita ho girato il mondo, non c'è continente che non abbia toccato, eppure mi sembra di non conoscere a sufficienza la mia regione. Giro per i villaggi operai di Sesto San Giovanni, Zingonia, Crespi d'Adda, mi perdo nella città fantasma di Consonno, risalgo a piedi i corni di Canso, il resegone, le grigne, mi immergo nel Ticino, cerco il posto dove Anakin Skywalker ha baciato Padmè Amidala sul lago di Como, sbarco su Montisola, mi emoziono di fronte alla corona ferrea che ha incoronato tutti i regnanti d'Europa, contemplo la Cappella Sistina dei Poveri, a Pisogne, così li chiamava Testori, gli affreschi del romanino. Mi raccolgo nel chiosso dell'abbazia di San Benedetto in Polirone e sento che non è ancora abbastanza, forse perché ho scoperto tardi la Lombardia, le mie figlie partono avvantaggiate, hanno iniziato ben prima di me e, ovvio, grazie anche alla mia ossessione. Ora, per dire, mentre scrivo queste pagine, è un agosto torrido. Qui a Milano sembra di camminare immersi in uno sciroppo bollente. Loro sono ospiti da amiche, chi sul lago maggiore, chi nelle prealpi lecchesi, al fresco. Io, a pensarci bene, dovrei imitarle, mollare tutto e scappare da questo computer. Magari inoltrarmi nell'oltrepò pavese, là dove la pianura diventa appennino. Ci sono stato una volta, giù giù, in quella punta estrema della Lombardia, dove i dialetti e i confini si modificano, si perdono, incuneati fra Piemonte, Liguria, Emilia, giù, oltre Carpeneto, verso Pregola, sedermi sotto una pergola, bere un buon bicchiere. Là capita spesso che, al primo cambio di vento, si senta già l'odore del mare. Grazie. Grazie.